Garantire nelle scuole pugliesi assistenza e consulenza psicologica a docenti, studenti e genitori per combattere la dispersione scolastica e il duvismo. All'indomani dell'approvazione della legge regionale 196 del 7 dicembre 2009, unica iniziativa in tutta Italia, l'Associazione Italiana di Evoluzione Personale ha organizzato a Bari un convegno per mettere a punto una serie di iniziative per rendere esecutivo il progetto. Soddisfatto il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, Luigi Palma. L'Italia è indietro rispetto a questo ambito, in tutti i paesi europei esiste un servizio strutturato di psicologia scolastica, tranne che in Italia possiamo dire che in Puglia, la Puglia è stata la prima regione che si è messa in linea con l'Europa. Due gli obiettivi principali che la legge regionale consentirà di raggiungere, una maggiore collaborazione tra scuola e famiglia ed il sostegno ai docenti nella formazione dei ragazzi. Dell'assistenza psicologica potranno soffrire gli studenti delle scuole primarie e secondarie.